Taglio del nastro questa mattina per la 27esima edizione della festa del Torrone a Cremona. Il sindaco Andrea Virgilio, alla presenza dell'autorità cittadine, ha dato l'avvio alla manifestazione gastronomica attesa durante tutto l'anno, la quale si svolgerà nell'arco di due settimane, dando modo di far conoscere la tradizione del Torrone a tutti coloro che desiderano parteciparvi. Oggi è una giornata importante, sempre importante quando partono iniziative come queste che portano visitatori dall'esterno, che danno un senso di orgoglio anche alla nostra città, che valorizzano le nostre imprese, i lavoratori, le famiglie, perché poi iniziative come queste non solo valorizzano un'eccellenza locale, ma nel valorizzare questa eccellenza danno senso al lavoro di tante persone. Quindi come amministrazione noi dobbiamo esserci, abbiamo un autunno scandito della valorizzazione di queste eccellenze e penso che dobbiamo proseguire in questa direzione. I visitatori potranno non solo degustare il Torrone nelle sue diverse declinazioni, ma partecipare anche agli eventi organizzati per l'occasione che si susseguono nell'arco delle giornate. Oggi l'edizione apre i battenti, ci sono grandi aspettative, è una manifestazione molto attesa sia dai cremonesi, ma oramai praticamente da tutta la regione Lombardia, con visitatori che provengono un po' da tutto il nord Italia. Tra gli eventi più attesi e iconici della festa del Torrone è stata la consegna del premio il Torrone d'oro al campione calcistico Antonio Cabrini per aver rappresentato e valorizzato la città di Cremona in maniera incommiabile. Tersino della Juventus e calciatore della Nazionale è uno dei simboli cremonesi più conosciuti in Italia. Mi fa piacere riceverla perché comunque da Cremonese è un premio ambito e che ti rende sicuramente felice. Sono cremonese quindi direi che Cremona fa parte della mia esistenza, poi mi porto naturalmente sotto l'aspetto sportivo, gli anni di crescita, gli anni migliori. che ho passato a Cremone ci sono stati ragazzi che poi sono stati anche loro dei grossi campioni. Non resa che lasciarsi immergere e farsi trasportare all'interno della suggestiva festa del Torrone, ricca di proposte per tutti i gusti.